buongiorno oggi mi trovo a Ghiasca sono al piano terra di uno stabile di tre piani con un totale di otto appartamenti e vi mostro un quattro e mezzo locali allora si accede e abbiamo questo atrio di ingresso con la spalliera di un armadio a muro quindi il disimpegno porta al primo bagno completo di piatto doccia water e il lavabo con specchiera quindi la prima delle tre camere superficie di circa 9 metri quadri comoda come piccolo studio camera armati un figlio piccolo in dependenza di quali che sono le necessità quindi la schiava dell'armadio a muro vediamo eccolo qua comodo un giaccio un po' da separatore quindi la cucina separata accessoriata di frigorifero e congelatore a tre cassetti forno e piano cottura in vetro ceramica bel piano di lavoro in granito e poi la lavastoniglie dalla cucina come anche dal salotto si può poi accedere alla terrazza che dà sul giardino condominiale adesso vediamo il resto dell'appartamento abbiamo le altre due camere e il bagno questa è la prima una superficie di circa 12 metri quadri camere hanno pavimento in parquet mentre le piastrelle sono nella zona comune e infine la matrimoniale questa di circa 13 metri quadri ci sta tranquillamente qua letto matrimoniale uno spazio per una cassettiera per esempio e di fronte un bel armadio il bagno grande poi completo di specchiere al baglietto lavabo la vasca sotto la finestra e poi il bagno è abbastanza spazioso e vediamo ora il salotto una superficie di 23 metri quadri vetri doppi e seramenti in pvc andiamo da porta scorrevole e riusciamo a vedere il terrazzino di 8 metri quadrati circa coperto e appunto si ha disponibilità di uscire a sfruttare il giardino condominiale e sono a disposizione posteggi in auto rimessa bene è tutto io vi ringrazio e vi invito a venire personalmente a visitare questo bello appartamento grazie ti affitto